Questo è un altro film, non è vestito uguale a prima. Va bellissimo così. Viveni via! Via! Paolo. Cosa stai facendo? Amaro, sto contando dei soldi. Siamo corti mille euro per comprare la cascina. Ma mille euro? Non ci compriamo nemmeno un cavallo. Puoi spostare la serie più verso di qua? Squilla. Arriva. E adesso che cazzo gli dico? Adesso cosa dico? Non posso mica dirgli sempre le solite pirlate. Ciao. Scusi, cinque minuti. Sì, sono arrivato. Allora? Come andate? Allora i soldi che aspettavate non sono arrivati. Ah. No. Battistone, mi viene quasi da piangere. Io non so più cosa fare. Era meglio fare il ciabattino. A me non ha rassicurato 800 euro al mese. Sì, Battistone, veni qui. Sempre ritenuto dal conto, vero? Sì. Finiamo qui. Sì, innanzitutto.